L'ecotassa da corrispondere alla Regione Puglia, cioè il tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani dovuto per l'anno 2017 grazie alle percentuali di raccolta differenziata, vedrà la conferma della liquota dello scorso anno per Andrea Barletta e Canosa al minimo regionale, cioè a 5,17 euro. Con determina dirigenziale del 15 dicembre scorso, infatti, il dirigente della sezione ciclo rifiuti e bonifica ha tracciato un punto della situazione sui rifiuti in Puglia e sulle aliquote da pagare per l'anno 2017 in tutti i comuni regionali. Ad Andrea toccherà, come detto, l'aliquota pari a 5,17, così come Barletta e Canosa nella BAT. A Trinitapoli e San Ferdinando toccherà l'aliquota di 6,97 euro, con un aumento per il comune Trinitapolese che lo scorso anno vide l'ecotassa più bassa della regione Puglia con l'aliquota al 5. Tutti i comuni pugliesi sono infatti racchiusi in un range che va proprio da 5 a 25,82 euro per i comuni meno virtuosi. Nella BAT la cattiva gestione dei rifiuti negli anni scorsi tocca a Minervino e Spinazzola. Entrambi i comuni infatti pagheranno il massimo dovuto. Male anche Margherita di Savoia che torna ad un'aliquota di 19,77 euro dopo aver pagato lo scorso anno un'aliquota del 6,97 euro, un passo indietro anche per Trani e Biceglie che dovranno pagare il massimo e cioè 25,82 euro, mentre lo scorso anno si erano attestate l'aliquota di 15 euro. Il tributo speciale, lo ricordiamo, si applica quando i rifiuti solidi vengono conferiti in discarica, smaltiti in impianti di incenerimento, senza recupero di energia, abbandonati o scaricati in depositi incontrollati. La montare delle imposte è determinato moltiplicando il quantitativo di rifiuti conferiti in discarica per l'aliquota stabilita con la legge regionale. L'ecotassa è a carico dei comuni e rientra nel totale complessivo della Tari.